Na 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 Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti Sono portiere e attaccante, Oli e Benji due speranze Loro vogliono sfondare e campioni diventare Per poter così giocare nella squadra nazionale Nella squadra nazionale Voli e Selena tirando i rigori Venti e Selena parando i rigori Sembra partite e allenamenti Santa è la classe dei due competenti Voli ricorre ogni pallone Venti lo segue con attenzione In questa sfida senza vincenti Fai dai ragazzi felici e contenti Voli e Selena tirando i rigori Venti e Selena parando i rigori Sembra partite e allenamenti Santa è la classe dei due competenti Voli ricorre ogni pallone Venti lo segue con attenzione In questa sfida senza vincenti Fai dai ragazzi Venti!